Cristina Quaranta si è sentita male al grande fratello VIP. Nel corso della diretta del reality show di Canale 5, in onda 24 su 24 su Mediaset Extra, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi e delle Noire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite alcune delle concorrenti hanno chiesto aiuto. Poi l'inquadratura sull'ex ragazza di Nonela Rai stesa al suolo, e la censura della regia. Come si vede nel video più in basso, Ele Noire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi stavano chiacchierando tranquillamente in cucina. Ad un certo punto si sono sentite le voci di numerose concorrenti che urlavano. Aiuto, aiuto, aiuto. Ele Noire e Antonella, preoccupatissime, si sono subito dirette verso il bagno. Da lì provenivano le urla delle altre geffine, tra cui Carolina Marconi e Sara Manfuso. Cristina Quaranta era stesa al suolo. Non è dato sapere se sia svenuta o scivolata, di sicuro ha avuto un malore. Intanto, le concorrenti hanno tentato subito di soccorrerla. Tiriamola su, fate le aria. Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione. Grande Fratello. Al momento la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale ma pare che nel bunker di Cinecittà sia prontamente arrivata un'ambulanza per soccorrere l'ex velina di striscia alla notizia, tornata in televisione dopo un lungo periodo di assenza. Secondo varie segnalazioni sui social network di alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip erano ore che Cristina Quaranta si lamentava con gli altri coinquilini per un dolore allo stomaco. Forse una cattiva digestione, anche se per ora non ci è dato sapere. Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella casa di Grande Fratello Vip. Così l'account ufficiale del reality, che ha rassicurato sulle condizioni della salute della condizione. Il Grande Fratello Vip rappresenta un'occasione importante per Cristina Quaranta, tra le sobrette più in vista degli anni 90 e 2000, scomparsa però dai radar nell'ultimo periodo. La Gefina è stata scoperta in tv da Gianni Boncompagni, che l'ha voluta prima a Domenica in, e poi a Nonè la Rai. Nel 1995, e in 1996 è stata Velina di Striscia la notizia insieme ad Aless. Per tanti anni Cristina Quaranta è stata una conduttrice sportiva. Ha condotto, ad esempio, guida al campionato e guida all'europeo. Dal 2010 al 2017 è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al Poker Poker Italia 24, conducendo le trasmissioni Quenza Teatai.